6 atteggiamenti dei dj assolutamente da evitare amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude a volte il modo di porsi che abbiamo può dar fastidio ci sono degli atteggiamenti che abbiamo spesso molto spesso e molti dj possono urtare la sensibilità di gestori pubblico e allora quali sono questi sei atteggiamenti da evitare eh sì a volte il modo di porsi rimane un po poco elegante presentarsi così rimane indigesto agli addetti a lavori al pubblico ed è una vera e propria perdita di interesse nei nostri confronti che ci fa sicuramente perdere punti perdere contatti non giovando per nulla la nostra crescita professionale ma che significa significa che il dj può anche essere molto bravo a tratti bravissimo e rasentare la perfezione ma con alcuni atteggiamenti rischia di vanificare l'attenzione verso di sé con una vera e propria antipatia cioè come partire proprio col piede sbagliato ma quali sono questi atteggiamenti da dj skiller beh il primo essere troppo pieni di sé questa ahimè è una caratteristica molto diffusa che il dj proprio acquisisce molto probabilmente dopo aver fatto la prima serata portata a casa più o meno bene o addirittura dopo aver comprato l'attrezzatura e solo il fatto di mettere mano su una console più costosa è e più menoso sarà il dj si sente lo fa sentire onnipotente non avete idea se vi guarderete intorno di quanti ce ne siano questo brutto atteggiamento si tende un po a perdere mano a mano che ci si confronta con il mondo quando usciamo dal nostro dalla nostra comfort zone dalla nostra regione della nostra città e ci troviamo di fronte a tante serate diverse e ai veri e propri primi ostacoli e allora lì si ritorna sulla terra coi piedi per terra se non si fa che si va molto lontano e la cosa piuttosto grave come secondo atteggiamento c'è il suo esatto opposto troppo accondiscendenti e timidi ovvero arrivare troppo scarichi e paurosi in console di fronte alle nostre occasioni ma soprattutto dire sempre di sì a tutto il che ci fa esporre a enormi rischi e veniamo subito considerati come deboli o come facilmente gestibili o ancor peggio ruote di scorta attenzione mi saranno venuti i brividi quanti di voi me lo dite questa cosa nei corsi questo problema che vi considerano le ruote di scorta e quando non hanno nessuno i proprietari chiamano voi oppure diventate i classici jukebox che acconsentono a tutte le richieste sempre ed in qualsiasi momento ok i compromessi ci stanno ma non di diventare l'automix del pubblico o del gestore insomma fra quella sopra e questa ci vuole come sempre il giusto equilibrio come del resto in molte cose per non risultare né troppo e neanche troppo poco terzo atteggiamento figlio del pieno di sé è il tu non sai chi sono io beh questo vale in molti settori non solo nel nostro il dj che ti elenca il background subito al primo incontro ho lavorato con tizio con caio e addirittura ho fatto un back to back con il creatore in persona ma ho suonato meglio io background molto spesso taroccato ovviamente omettendo le parti brutte in modo da convincerti e venderti il prodotto è il primo che io personalmente non prendo mai in considerazione internet è ormai nelle nostre vite in ogni smartphone e computer da più di 25 anni certe cose si sanno insomma non si va a inventare una carriera con il copia in colla con i flyer taroccati e con l'intelligenza artificiale adesso se uno è del settore ci metterà veramente un attimo a smascherarvi e allora che impressione pensate di fare agli occhi dei colleghi e gestori altro atteggiamento da non tenere possibilmente è prendere tutto quello che c'è questa è ormai diventata una vera e propria piaga degli ultimi anni dj innamorati della house che suonano balli di gruppo reggaeton e viceversa capisco il 360 gradi ma se uno si sente veramente di farlo se ce l'ha dentro se gli piace se non te la senti non farlo finirai per rovinare la tua carriera e rovinerà eppure la serata a chi ti viene a sentire perché se si lavora contro voglia il risultato finale ne risente la nostra è un tipo di arte con tutto il rispetto per le arti più sublimi e come tutte le arti se viene fatta contro voglia non ha alcuna resa e chi dice che il pubblico non se ne accorge perché non capisce nulla è lo stesso che poi dice ma come mai mi si è svuotata la pista dopo un'ora un quarto o anche prima altro atteggiamento veramente odioso è fare i divi e non considerare nessuno quanti ne avete nei vostri amici non vi dico di taggarli perché se no è finita la vostra amicizia tanti si fanno prendere dall'euforia e cavalcano l'onda di un periodo positivo magari perché hanno fatto una bella stagione o per un disco in classifica momentaneamente ergendosi a paladino di io sono il futuro io ho il mondo ai piedi e voi chi siete senza dimenticare che i periodi positivi capitano così come quelli negativi solo che durante i positivi se ti sei comportato da fenomeno durante quelli negativi quando abbasserai la cresta molti si ricorderanno del tuo periodo positivo soprattutto quelli molto attenti ricordatevi sempre che quando si è al top tutti ci cercano tutti ci vogliano bene quando siamo nel periodo down stranamente non esistiamo per nessuno e il telefono è parecchio muto non squilla più un giorno sei statua un giorno sei piccione prendete spunto dai grandi nella maggior parte dei casi sono i più umili i più disponibili e non ti fanno pesare la propria fama ultimo ma non per questo meno importante anzi è molto importante la mancanza di rispetto verso il prossimo rispetto questo vale per qualsiasi attività non solo per l'ecosistema del quale facciamo parte chiunque incontriamo che sia di valore non valore sia di qualità meno qualità portare sempre rispetto e richiedere rispetto è fondamentale soprattutto nei rapporti di collaborazione quindi proprietari gestori al director pr ma anche colleghi e per il pubblico ma soprattutto per noi stessi cerchiamo di portare sempre rispetto fare il nostro lavoro e non travalicare senza troppo sgomitare se sei bravo devi uscire fuori con tutti i tuoi mezzi e ce ne sono veramente tanti non mettendo in cattiva luce i tuoi competitor e voi siete incappati qualche volta o magari all'inizio del vostro percorso in questi sei atteggiamenti può capitare ci mancherebbe altro non è che siamo macchine tutti sbagliamo ma tutti possiamo riprendere la retta via l'importante prendere coscienza ed evitarli e ora fatemi sapere le vostre opinioni qua sotto nei commenti e se vi è piaciuto questo tipo di contenuto potete condividerlo e iscrivervi al canale o qui non si offende nessuno corsi per dj corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto contattato nella sezione contact compilando il form oppure tramite le nostre pagine social per chi sono indirizzati i corsi per chi inizia da zero per chi è già bravo e vuole migliorarsi e da solo non ci riesce oltre un certo limite e per chi vuole fare il salto definitivo di categoria verso il professionismo consulenze su tutti gli argomenti trattati su su s4 dj quindi hardware software ma anche tutte le tematiche legali del suonare in regola attenzione perché questo è un argomento molto scottante per i dj per i producer oltre a facebook e instagram c'è il nostro tiktok vai ti puoi iscrivere e seguirci e la nostra community telegram anche quella gratuita il nostro canale youtube se ancora non ti sei iscritto lo puoi fare qua dove leggi iscriviti e valutare anche la corsia preferenziale dell'abbonamento tantissimi video tutti in stile dj e produzione musicale parliamo solo e tutto l'anno di questo in anteprima con spoiler recensioni tutorial che puoi vedere e essere informato su questo cliccando sulla campanella così lo saprà in tempo reale ma puoi anche condividere mi piace se pensi che questo possa essere importante oltre che per te per i tuoi amici ci vuoi aiutare lo puoi fare tramite sostiene ss4dj qua sopra oppure qua sotto dove vedi super grazie c'è anche il nostro ufficio al merchandising con tutte le linee compreso anyway beh fate tesoro di questi sei atteggiamenti da non tenere insomma abbiamo trovati un po ovunque ma sono sicuro che li troverete anche voi anzi me lo farete sapere qua sotto nei commenti tutte le vostre esperienze da parte di ss4dj e claude vi ringrazio per ascolto una bellissima giornata a tutti voi ricordandovi l'iscrizione al canale che per noi è fondamentale per poter crescere e darvi sempre tutti questi consigli spoiler tutorial recensioni ovviamente tutte in tempo reale per dj e producer che è il nostro scopo principale ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio miìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì